La voce di Edoardo De Filippo, il dipinto mattanza ellenica di Michele Ruvolo e la sedia su cui nel 43 se detta Eisenhower per la stipula dell'armistizio di Cassibile al centro della scena. Elementi emblematici utilizzati dal regista Michele Celeste per rappresentare l'arte come forma di resistenza e mezzo unico di sopravvivenza per l'uomo. Un atto di resistenza vissuto attraverso il corpo, la commistione di idiomi, dialetti e linguaggi che si intrecciano in un unico flusso narrativo. Per far parlare l'arte, i poeti, i filosofi, per donare allo spettatore quel calaideoscopio attraverso cui assistere alla manifestazione della diversità come espressione della pura bellezza originaria. Questo l'intento del corto teatrale Metem Psicosis Nunc et Now che la compagnia officina teatro ha messo in scena il museo archeologico che ha così chiuso la mostra di Gianni Santagati sulle sponde dell'Imeras. L'arte intesa come mezzo di resistenza, resistenza a tutte le nefandezze di cui l'uomo è capace, dalla guerra all'emarginazione alla povertà assoluta, questa divergenza tra occidente e oriente e soprattutto paesi del terzo mondo. Ma arte intesa anche come resistenza, resistenza alla morte stessa, quindi la parola, il segno del pittore che diventa immortale, le ceramiche dei greci che arrivano fino ad oggi che sono in un certo senso, la loro bellezza è diventata immortale e per sempre. E quindi poi affronto invece la problematica dell'arte più effimera che è quella lì dell'attore. Da qui la Metem Psicosi, cioè intesa come trasmigrazione della parola dell'attore verso lo spettatore che rivive nell'animo dello spettatore e quindi fa sì che la parola stessa dell'attore viva in eterno. A presentare lo spettacolo Antonio Vitellaro, presidente di Storia Patria, è il direttore Giovanni Crisostomo Nucera, che ancora una volta ha aperto le porte del Museo archeologico alla cultura. La performance che guida Michele Celeste è un invito alla riflessione e io ho pensato, riflettendoci un po', a una sorta di start-up culturale e di questi ce n'è tante a Cartanissette, cioè giovani che si spendono con forti cariche innovative per invitare a vedere il mondo con altri occhi.